Grazie Paolo. È la scritta che campeggia nella cartolina commemorativa che celebra il campione mondiale ad un anno dalla sua scomparsa. Chi ha lasciato qualcosa di buono, esperienze positive, buon ricordo, è giusto che venga omaggiato nel tempo. Siccome io penso che Paolo Rossi sia una delle persone che non era arrogante, era sempre disponibile, non era pieno di sé, eccetera, era veramente uno di noi, una persona normale, sia assolutamente giusto riuscire nel tempo senza eccedere, avere dei momenti in cui ricordarlo. È una sorta di abbraccio che Vicenza vuole rinnovare attraverso l'iniziativa di diffondere il più possibile questa immagine ritrovata nell'archivio dell'Anerossi. Una foto degli anni 70 scelta per la semplicità e spontaneità che traspare, caratteristiche di umiltà nonostante gli allori sportivi guadagnati che esaltano soprattutto il valore umano del campione mondiale, diventato vincentino non solo nei cuori, ma anche ufficialmente. Paolo Rossi è cittadino di Vicenza, un amico di Vicenza a tutti gli effetti, vogliamo ricordarlo a un anno dalla scomparsa con una serie di iniziative. Questa cartolina ha 20.000 copie distribuite in città e in provincia attraverso anche i tifosi, è un ricordo concreto cui seguiranno altre iniziative anche da parte dell'Anerossi Vicenza. Abbiamo già cominciato a fare con l'iniziativa Perugia sulle maglie che andranno in beneficenza, lo faremo il 9 il giorno della scomparsa ad un anno con un visual che caratterizzerà i nostri strumenti di comunicazione soprattutto quelli sito e social, lo faremo il 10 con una messa privata, qui parteciperà tutto il mondo dell'Anerossi Vicenza a casa Vicenza, lo faremo il 12 con un cerimoniale particolare prima della partita. Grazie 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 Grazie